Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con in primo piano arte, politica, cultura e attualità tra Umbria e Toscana. Torniamo ad interessarci dei fatti che riguardano il parlamentino Tifernate e lo facciamo con il capogruppo di Forza Italia, Tommaso Campagni. Buonasera, ben ritrovato Tommaso. E allora che dire, è un momento in cui la politica Tifernate è tornata un po' a far parlare di sé. Non parleremo delle dinamiche del parlamentino, non parleremo dei vari gruppi consigliari che nascono, no, però quello che a me piace, quello che vedo è di nuovo proposte. Tu ne hai presentate alcune, parleremo di questo, però io vorrei con te riavvolgere in altro perché oramai sono 14 mesi e quindi il noviziato è finito, caro Tommaso. Come ti stai muovendo? Come si sta muovendo Forza Italia e soprattutto come Forza Italia intende muoversi nel territorio? Sì, in effetti ormai siamo arrivati, abbiamo scavalcato l'anno, quindi sta finendo la parte di, chiamiamolo così, tiro signo formativo. È un'esperienza che comunque sia, mi sta piacendo molto, molto formativa, è sicuramente un impegno importante perché credo che avere il privilegio di poter contribuire e dare un supporto, un apporto al proprio comune sia fondamentale. Diciamo che per me il primo anno è stato innanzitutto un anno di conoscenza, di scoperta e di tanto studio e lavoro perché comunque sia, era per me la prima esperienza, quindi credo che prima di tutto serva prepararsi al meglio, conoscere tutte quante le dinamiche, tutti quanti i passaggi e le pratiche da dover fare per rendere al meglio. Le proposte piano piano infatti stanno aumentando, stanno aumentando il lavoro che facciamo sia all'interno dell'attività consigliare, quindi all'interno del Consiglio Comunale, sia al di fuori sul territorio perché come dicevi ho l'onore di rappresentare Forza Italia come capogruppo in Consiglio Comunale ma essendo anche coordinatore comunale del partito fuori cerchiamo di portare avanti in modo parallelo queste due attività. Avevamo fatto mesi fa, avevamo inaugurato questo tour che poi ho visto è piaciuto particolarmente anche all'amministrazione comunale perché ho visto che il sindaco Secondi ha iniziato anche lui una sorta di tour per frazioni e quartieri per sentire comunque sia ad un anno di distanza le opinioni di distanza dei cittadini, noi avevamo presentato molti mesi prima questo tour che si chiamava Confidiamoci, l'intento era proprio quello di fare un'attività sul territorio, un'attività che si basasse prevalentemente sull'ascolto dei cittadini, sul farsi conoscere perché comunque sia è vero che la politica a volte ha sempre deluso i cittadini compromesse con parole, noi invece vogliamo puntare soprattutto all'ascolto, quindi questo tour ci è servito innanzitutto per farci conoscere e per ascoltare quelle che sono le istanze dei cittadini e se l'attività poi in Consiglio Comunale sta crescendo è grazie anche a loro perché ascoltandoli poi uno può portare delle proposte che sono concrete per il territorio. E notizia di questi giorni, 40% di astensione, siamo arrivati forse in alcuni casi di più, oramai Tommaso il partito prevalente è quello del non voto e questa, non tu perché inizi adesso, ma questa è la vera colpa della politica, non parlare più alla gente, non interessarsi più dei problemi della gente. E allora io ti chiedo, e mi chiedo perché di frequente motivo di dialogo con chi ci segue, come mai la politica promette sempre le stesse cose e poi non le altro? Cioè è troppo semplice, uno fa la lista della spesa, sa più o meno quali sono le necessità, faremo questo, faremo quest'altro, tanti incontri, tanti convegni, poi però stringi stringi, siamo sempre lì al palo. La gente che dice, la gente di Forza Italia che dice in questi incontri? Allora diciamo che come hai affermato tu, l'astenzionismo credo che sia una delle peggiori cose che possa capitare ad un paese, perché non riuscire a coinvolgere i cittadini, fargli fare una loro scelta, esprimere un loro desiderio, una loro intenzione, credo che sia una sconfitta innanzitutto per chi amministra il territorio o la nazione e per chi ha intenzione di farlo, quindi credo che sia una piaga che ormai è diventata costante, non solo tra i giovani vedo ultimamente che erano sempre stati etichettati come la categoria che meno si esprimeva, meno voleva andare a voto, ma vedo che sta diventando una cosa estesa, quindi sicuramente l'unico rimedio che poi penso sia scontato dirlo, ma credo che sia poi la realtà dei fatti, è quello di cercare di convincere i cittadini che le proposte che vengono fatte siano proposte concrete che possano portare ad un miglioramento e possano fargli ricredere. Senti, dopo 14 mesi credi sia anche arrivato il momento di fare delle interrogazioni, delle emozioni concrete e poi parleremo anche di quello. Io parlo non tanto come forza Italia, ma vedo che nel centro-destra difficilmente si riesce a tirar fuori quelli che sono i problemi concreti della città. Per quale motivo? Perché solo Emanuele Arcaleni propone cose che poi alla fine possono essere anche sconvenienti per l'opinione pubblica. Certo, come dicevi prima anche tu, la gente si stufa perché ascolta sempre le stesse proposte, comunque se ci sono sempre le stesse proposte vuol dire che ci sono sempre gli stessi problemi e questo è una realtà dei fatti e naturalmente chi amministra e chi sta amministrando da ormai tantissimi anni credo che debba comunque sia tenere in considerazione questo. Noi come opposizione e dico noi inteso come centro-destra cerchiamo di fare la nostra parte in modo costruttivo, in modo propositivo per cercare poi, come dicevi giustamente tu, di portare alla luce delle proposte e delle soluzioni che siano concrete per il territorio perché indipendentemente credo dalla ideologia e dalla corrente politica credo che per amministrare bene un territorio serva capire bene quelle che sono le problematiche, le dinamiche del territorio e andare ad agire su quelle, molte ad esempio dei documenti, dei dispositivi che sono stati presentati sono stati votati infatti tanto dal centro-destra quanto magari dalla collega Arcaleni, come dicevi tu, dalla collega Bassini, quindi se ci sono delle tematiche che uniscono e che sono concrete e utili per il territorio viene meno la parte ideologica. Per quanto riguarda la concretezza dei dispositivi presentati, diciamo che come centro-destra stiamo cercando di tenere una linea anche di coesione, sono nuovo io nel Consiglio Comunale, sono al primo mandato anche per dire i colleghi Eldarossi e Riccardo Levec, il collega Marinelli, il collega Manzini e Lignani ormai sono invece esperti del settore, però cerchiamo ultimamente di dare un indirizzo comune, è stata presentata una mozione che verrà discussa sui minori in stato di disagio, che è stata poi tra l'altro una mozione che è stata poi controfirmata da tutti quanti i consiglieri di opposizione, in concreto adesso abbiamo presentato la mozione ultimamente in tema di sicurezza urbana, che credo sia importante non per una questione di propaganda politica, ma credo proprio per un concetto di sicurezza e servizio al cittadino, perché comunque sia Castello ha veramente tante difficoltà, tante problematiche anche negli enti locali, faccio per esempio la Polizia Municipale di Città di Castello, comunque sia che svolge un lavoro credo incredibile per gli strumenti e la manodopera che ha, perché se pensi che ci sono solo 18 agenti della Polizia Municipale su un comune come quello di Città di Castello che è di oltre 36 mila abitanti, con tutti i servizi collegati, con tutti gli uffici, lo sportello del cittadino, quindi credo che svolgano un lavoro incredibile, così come anche le forze dell'ordine, i carabinieri e la Polizia anche per garantire l'H24, quindi quello per dire è stato uno strumento che poi, una mozione che è stata poi con alcune modifiche approvata in Consiglio Comunale, è stato sicuramente un dispositivo importante in tema di sicurezza. Al prossimo Consiglio Comunale presenteremo un altro atto che secondo me è concreto, sempre parlando di cittadini e servizi al cittadino, perché penso che l'amministrazione comunale debba essere al servizio del cittadino, i cittadini l'hanno scelta per quello e è il tema del baratto amministrativo, perché diciamo che ecco, all'ultimo… Sei tu quello lì? Esatto, sì sì, lì quella foto posa che mi avevano… Allora sì, parliamo del baratto amministrativo, però ne parliamo non subito, Tommaso, perché ci sono due argomenti che mi interessano particolarmente. Parlavi di disagio sociale. Allora, tu sei di Città di Castello, sei giovane, no? Non sei vintage come me, però di sovente ci scrivono, molto preoccupati, circa… Allora, pare che il disagio giovanile si stia trasformando in piccole bande di faccino rosi, no? Ragazzi che magari si ritrovano e vogliono fare… magari emulare film o serie televisive. Io credo che questi tre anni di pandemia siano stati altamente sottovalutati per quanto riguarda i giovani. Allora, gli abbiamo portato via tre anni che non recupereranno mai Tommaso. Molti di loro in questi tre anni hanno iniziato ad avvicinarsi ad altro. Su questo però la politica è sorda. Come mai nessuna interrogazione in Consiglio Comunale prevede uno screening su quella che è la realtà giovanile a Città di Castello? Allora, questa è una tematica che a me mi tocca anche particolarmente perché la vivo non solo in ambito politico ma anche in ambito lavorativo perché comunque sia mi interfaccio tutti i giorni per cercare di dare anche una prospettiva lavorativa ai ragazzi ma ai lavoratori in generale. Quindi la tocco con mano anche in ambito lavorativo e c'è questo disagio forte. Sicuramente il Covid non ha inciso e influito negativamente solo su una condizione economica ma anche poi su una condizione sociale e a volte anche psicologica dei ragazzi in particolar modo che magari non erano pronti a dover subire anni di chiusura, anni di isolamento e privazioni. Quindi sicuramente questo ha inciso. Diciamo che interrogazioni ad hoc non ne sono state fatte ma nella mozione che avevamo presentato che aveva poi un ampio spettro affrontava perché avevamo parlato anche dell'istituzione di un tavolo periodico di lavoro dove poter far sedere insieme non solo i rappresentanti dell'amministrazione comunale e delle forze dell'ordine ma anche tutti gli altri stakeholder in ambito di servizi e di sicurezza. Tra questi anche le varie comunità anche tutte quelle associazioni che si occupano dei giovani nel supporto e aiuto ai giovani, sostegno pre e post poi anche raggiungimento della maturità quindi dei 18 anni. Questo credo che sia importantissimo perché lasciare anche le associazioni, lasciare anche responsabili che si occupano di questi giovani soli e non dargli un supporto per permettergli di garantire al giovane un percorso perché così il percorso resta mozzo, nel senso magari queste comunità si prendono cura dei giovani fino ai 17-18 anni, poi non è più nella loro giurisdizione e autorità poterli aiutare. Se non ci sono dei canali, degli strumenti o delle agenzie, associazioni che possono aiutarli a distradarli è naturale che molti che magari vengono anche da situazioni di difficoltà perché magari non hanno famiglie, non hanno punti di riferimento, si possono perdere per strada. Quindi anche il tema della sicurezza che avevamo affrontato non era volto a puntare il dito contro baby gang come tanto la propaganda politica citava. Era più invece uno strumento di prevenzione, cioè quello di cercare di mettersi seduti e di coordinare, di dare un'azione coordinata cooperata anche tra i vari stakeholder per aiutare questi giovani. Senti Tommaso, c'è la percezione di quante siano, perdonami, le famiglie in difficoltà in questo momento a Città di Castello? Allora, ce ne sono tantissime. Io mi ricordo in Consiglio Comunale abbiamo anche trattato il tema dei percettori del reddito di cittadinanza e un dato era comunque sia significativo, quello basta pensare che su un comune come Città di Castello c'erano quasi 400 percettori di reddito, quindi ti vuol dire che già sono 400 persone che stanno al di sotto della soia minima per poter condurre una vita dignitosa e questi erano solo quelli regati al famoso reddito di cittadinanza. Poi ci sono anche quelli non dichiarati, quelli che comunque sia vivono al limite la loro quotidianità, quindi è sicuramente un tema delicato, è un tema da affrontare e tra l'altro mi hai anticipato, nel senso che stavamo elaborando un documento da portare sotto forma di mozione, quindi sotto forma di un impegno formale scritto da parte dell'amministrazione comunale proprio in questo tema, cercando di coinvolgere non solo poi l'amministrazione con gli uffici e l'assessore al sociale, ma cercando di coinvolgere anche poi le varie comunità della zona e anche le varie associazioni che oltre la Caritas che si occupano comunque sia di sostegno e supporto alle famiglie. Andiamo per gradi, 400 persone o 400 famiglie percettori di reddito di cittadinanza? Quello poi sono dati che sono da valutare perché ci possono essere nuclei familiari magari per settori di reddito, il padre che è per settori di reddito che poi ha a carico anche tutta la famiglia, come ci può essere il solo figlio che è per settori di reddito. Allora di queste 400 persone qualcuna ne è stata ricollocata, è stato fatto un percorso lavorativo per queste persone? Ok, mi fa difficoltà parlarne perché io lavoro sull'agenzia interinale, quindi disavamo... No, però vedi con Maso, tu in questo momento fai politica, no? Certo, certo. E quindi dato che c'è stata una presa d'atto da parte del nuovo governo di uno stop a reddito di cittadinanza, io vorrei cercare di capire queste 400 persone che hanno percepito il reddito, se sono state messe in condizione di potersi rinserire nel mondo del lavoro, è stato fatto un percorso, si può capire se, dato che la legge imponeva che il tutor, il navigator, il navigator, chiamiamolo come vogliamo, avesse la funzione di riportare nel mondo del lavoro il percettore del reddito, di queste 400 persone è possibile sapere quante hanno fatto un percorso formativo? Messi fa, quando era stato trattato l'argomento in consiglio, credo che eravamo su percentuali molto basse, quindi credo una ventina, ventina, ventina di 400 collocate, bisognerebbe prendere poi dati effettivi e concreti, stilati e quindi richiesti, però il problema è stato proprio quello, c'è stato uno scollamento tra l'attività che veniva fatta da navigator e la possibilità poi di avere delle fattive soluzioni, non ultimo da dicembre è stato attivato infatti dall'ARPAL, quindi dall'Agenzia per le Politiche Attive della Regione Umbria, un progetto che si chiama Progetto Goal. Adesso c'è una sinergia differente, perché? Perché si è riusciti a creare un collante migliore tra quello che è il mondo pubblico dei centri per l'impiego, dei navigator con il mondo privato, coinvolgendo aziende ed agenzie e questo sta fornendo dei riscontri molto migliori, perché questa sinergia fa in modo che il lavoratore abbia un percorso delineato, tracciato, che gli parte dall'accoglienza al centro per l'impiego, da una serie di analisi che vengono fatte, la famosa skill gap analysis e da lì poi c'è uno sbocco lavorativo differente. Io confido molto su questo progetto che poi è stato portato dalla Regione, perché credo che sia uno strumento adeguato per poter alzare notevolmente la percentuale di collocamento. Mi toglie una curiosità. Credo che sia stato l'assessore Mariangeli che a mia precisa domanda circa la possibilità magari di far sì che i percettori potessero far lavori socialmente utili, mi disse guarda è una strada impervia, perché può sembrare semplice, ma in realtà la burocrafia blocca tutto. Quindi poi alla fine, anche se un amministratore ci mette la buona volontà, tutto finisce. Ora c'è da capire però, caro Tommaso, queste 380 persone che fine faranno fra tre mesi? Quando io parlo di screening parlo di questo, rischiamo di mettere diciamo per strada 380 persone che magari hanno famiglia. Certo, certo. Sicuramente il lavoro e secondo me questo progetto che è stato attuato ed è operativo e coinvolge come dicevo anche poi società di formazione per cercare anche di aiutare il lavoratore in tutta una serie di upgrade, quindi di riqualificazioni professionali, formative, sicuramente credo migliorerà molto la situazione e quindi permetterà anche una prospettiva differente a queste persone che a breve rischieranno magari di trovarsi senza una fonte di reddito. Io credo che ecco, la burocrazia ce n'è tante in Italia e non è ormai un segreto, è sotto l'occhio di tutti. Sicuramente uno snellimento dell'attività burocratica aiuterebbe molto, ma non solo in ambito lavorativo, ma anche in tutta una serie di altri ambiti, il nostro paese. Detto questo è vero anche che nonostante tanta burocrazia penso che quando vengono fatte delle proposte o vengono trovate delle soluzioni concrete con determinate direttive da seguire a quel punto, anche se la burocrazia c'è, ma c'è anche il modo di fare, c'è anche il modo di aiutare e quindi questo credo che sia fondamentale. Allora tu per professione lavori nell'ambito delle agenzie interinali, no? Il tuo compito qual è? Io diciamo mi occupo di tutta la parte commerciale, quindi tutta la parte di scouting delle aziende e dei loro fabbisogni. E vi togli una curiosità perché puoi dirmi se è vero o no, ma è vero che manca forza lavoro in Valtiberina? Allora, la forza lavoro naturalmente il territorio della Valtiberina è quello, quindi è delimitato e il bacino è quello, quindi naturalmente la forza lavoro sui territori è quella. Non è che manca, molta è occupata, ti dico la verità, quindi naturalmente restringe il campo dei disponibili, di quei profili liberi da poter collocare. Tra questi profili liberi poi c'è un mondo, perché comunque sia trovi il neolaureato che magari è in cerca del primo impiego, trovi il ragazzo che ha finito l'istituto, il ragazzo o la ragazza che ha finito l'istituto professionale e che magari vuole subito dopo le superiori collocarsi, fare la prima esperienza lavorativa, trovi anche padri di famiglia e madri di famiglia che magari sono arrivati a 50 anni, 60 anni addirittura, che hanno magari però ancora quei 6, 7 anni a raggiungimento della pensione e che sono veramente in difficoltà nel trovare lavoro, perché poi comunque sia è una difficoltà riuscire a reinventarsi e rendersi appetibili per le aziende. Io, ecco, vivendo da tutti i giorni, vedo che, ritornando poi anche al concetto di Covid. Le aziende comunque sia hanno subito delle ripercussioni, molte sono state in cassa integrazione, però hanno attutito bene il colpo e si sono sempre rese disponibili nell'offerta di lavoro. La domanda di lavoro c'è, la cultura del lavoro credo che si possa migliorare, nel senso che secondo me il Covid ha inciso molto anche su quello, cioè riuscire a mettersi in gioco, cioè avere anche la sicurezza nel trovare lavoro, molti ragazzi giovani li vedi che sono spaisati, nel senso quei 3 anni comunque sia per molti hanno inciso e quindi serve anche avere comunque sia aziende che scommettano. Si è persa l'occasione per cercare di far un salto di qualità dal punto di vista della formazione in questi 3 anni? Sicuramente, per me la formazione è fondamentale, poi ecco lo dico da laureato, masterizzato, tutto, però io credo che poi quando c'è lo stacco e si deve entrare nel mondo lavorativo, io lo dico sempre, è meglio perdere, guadagnare 6 mesi di formazione, 6 mesi, 12 mesi, investire sulla formazione in campo piuttosto che cercare profili pronti subito che poi magari si rivelano inadatti perché comunque sia in un ambiente di lavoro ci devi sempre entrare. Io penso che ecco tu sei giornalista da una vita, se dovessi cambiare l'azienda o il giornale per cui lavori entreresti comunque sia a fare sempre un lavoro uguale ma in un ambiente totalmente differente, con dinamiche differenti, con una policy differente e quindi l'ambientamento ti servirebbe uguale anche se il tuo lavoro lo sai fare. Quindi io credo che la parte di formazione, di adeguamento, ambientamento sia fondamentale perché non tutti i profili sono pronti subito e non è detto che un profilo che ti sembra inadatto non possa rivelarsi poi invece utile e invece una risorsa valida. Tornando a quello che è l'argomento principale di questi mesi, ospite da noi l'assessore all'urbanistica Giuseppe Bernicchi, ha dichiarato a testè, riapriremo parte del piano regolatore che riguarda le aree zauni. Significa che se tu hai un progetto in un'area non edificabile, un progetto qualificante di miglioramento, il comune è pronto ad ascoltare. Beh, che dire, è anche un modo di cercare di ripagare tutte quelle persone che sono rimaste fuori dal piano regolatore. Perché su questo si è parlato poco? Perché la politica non ha proferito verbo? Perché magari il centrodestra stavolta no? Non ha teso una mano? Beh, questo è sicuramente… Perché diciamo è importante, dai. No, è un'iniziativa sicuramente importante, anche perché faccio un paragone, senza spostarsi troppo, perché io penso che per fare le cose bene possiamo anche rubare con l'occhio e vedere chi sta facendo già cose buone e che portano un contributo, un miglioramento alla città. Il comune di Montone, che secondo me è ben amministrato, io ho avuto anche la possibilità di farsi un tirocino formativo quando facevo università e lì le iniziative in questo ambito urbanistico, ma anche di territorio per promuovere, per accogliere anche possibilità, iniziative, investimenti, aperture, ha fruttato molto. Lì il distretto industriale, ma anche a livello urbanistico adesso è esercito molto bene, quindi questa è un'iniziativa sicuramente che porta utilità, è di pubblica utilità, quindi io credo che come Forza Italia, non mi sento di parlare come centro-destra, non sono qua presenti tutti, però credo che quando ci sono iniziative che aiutano il territorio, indipendentemente da chi arrivino, credo che devono essere prima utili per il cittadino, perché se portano un miglioramento al cittadino e alla città, credo che è sotto l'occhio di tutti che aiutano a crescere. Il Comune di Castello ha bisogno di crescere. La tua è un'opposizione costruttiva? Noi l'abbiamo sempre intesa così, da quando siamo arrivati, poi magari fa più notizia un'opposizione rumorosa, un'opposizione dura. Noi crediamo che sul territorio bisogna portare proposte costruttive, perché il territorio che il centro-destra magari in futuro vorrà provare ad amministrare deve essere un territorio che ha delle potenzialità e partire da zero sotto zero non aiuta, quindi se ci sono già dei passi in avanti per il Comune è altro che bene per la città e per i cittadini. Quando parli di opposizione costruttiva, è l'idea di tutto il centro-destra o è l'idea di Tommaso Campagni, capogruppo di Forza Italia? Allora, in primis come Forza Italia abbiamo questa idea di fare opposizione, che poi ripagherà o meno, non lo so, lo vedremo poi nei contenuti e nei fatti di quello che porteremo e di quello che riusciremo a far approvare all'amministrazione comunale. Sto vedendo e sono felice che con i colleghi Eldarossi, Riccardo Levec, il collega Marinelli, anche Lignani e lo stesso Valerio Anche Mancini, stiamo presentando dei dispositivi insieme, quindi firmati insieme, ci stiamo coordinando anche sulle varie proposte, quindi un collega propone magari l'installazione di più telecamere, l'altro collega parla di una problematica su una rotonda, sulla viabilità, quindi io penso che ci sia un fil rouge che cerca di portare delle proposte concrete. Fantastico, però sì, ora andate d'accordo 18 mesi fa, quindi avete fatto uno step intermedio, siete tornati finalmente a parlarvi? Diciamo che ci sono anche molte situazioni che sono cambiate, io ecco sono nuovo perché l'attività è iniziata ora e anche l'esperienza politica è andata in concomitanza con l'attività consigliare, è cambiato molto anche su altri partiti, su Fratelli d'Italia sono entrati due nuovi consiglieri, comunque sia due nuovi esponenti, c'è una lista civica, quella di Marinelli che è nuova, quindi il dialogo cambia perché cambiano anche gli interlocutori, io credo che la cosa migliore da fare adesso è lavorare e fare proposte, perché ormai il passato è passato e stare a pensare all'ennesima occasione persa non aiuta neanche nell'attività futura, consigliare per la città, poi quando sarà ora di nuove votazioni credo e spero che ci sarà sicuramente una sinergia differente, una comunicazione differente e vedremo poi a tempo debito quello che succederà. Mi toglie una curiosità, sono oramai 14 mesi che si è insediato il parlamentino, 14 mesi di consigliatura per quanto riguarda la giunta guidata da Luca Secondi, che dici? Poteva essere fatto qualcosa in più, ancora la macchina deve essere oliata, parli di opposizione costruttiva, probabilmente per questi 14 mesi tutto bene allora. Allora, parlo di qualcosa che potrebbe anche non andare bene magari? No, allora fare un'opposizione costruttiva non vuol dire che non ci siano problemi, anzi forse se uno fa un'opposizione costruttiva, fa tante proposte è proprio perché magari dall'altra parte c'è qualcosa che non va. Il bilancio dell'amministrazione comunale sinceramente non sento di darmi una sufficienza piena perché, faccio un esempio, in tema anche di bilancio, di approvazione di bilancio ci sono state fatte già sopra le 15 variazioni di bilancio, ci sono stati dettagli importanti perché l'amministrazione comunale con le variazioni ha deciso di tagliare su degli aspetti su cui tra l'altro aveva premuto fortemente anche in tema di campagna elettorale. Mi fai però qualche esempio. Esatto, ci stava arrivando. Sui servizi digitali si parlava di un'amministrazione comunale che avrebbe poi reso Città di Castello al passo con i tempi e se fai tagli sui servizi digitali diventa problematico. Tagli sui servizi sociali, anche quello su tutte le dinamiche di cui parlavamo poc'anzi diventa complicato se tagli migliaia di Euro per i servizi sociali, per il sostegno alle famiglie e queste sono tutte variazioni di bilancio che sono state deliberate e approvate. Diventa difficile poi riuscire a dire che l'amministrazione comunale sta andando nella giusta direzione nonostante le proposte ci sono state. Non dico che tutto è stato fatto male, non dico anche che la situazione di Castello naturalmente non la scopriamo oggi. È una città che ha molte problematiche, che ha molte potenzialità con sé, ma sono tutte problematiche che ci portiamo dietro da amministrazioni che sono state sempre della stessa bandiera e anche ogni 5 anni risentire proposte su miglioramenti della città che potevano benissimo essere fatti in tutti i vari mandati, questo forse è un motivo della varia delusione dei cittadini, del malcontento e anche magari del maggiore astenzionismo che portano ad essere disillusi nei confronti della politica. Infatti, tanto gli argomenti sono sempre quelli, il rilancio del centro storico, intanto Viale Morandi inaugura la nuova rotondina e l'ennesimo grande magazzino, ormai è diventata la via dei centri commerciali Viale Morandi, una volta caro Tommaso era la via dell'artigianata della zona industriale, ora è diventata una zona commerciale, tant'è comunque posti di lavoro si creano, vorrò cercare di capire fino a dove arriveranno queste catene, davvero inizia ad essere curioso. detto questo però, e qui è lo scontro epico perché Verninti è stato chiaro, se vogliamo rilanciare il centro storico ci sono due questioni da risolvere, piazza Burri e quindi piazza Garivaldi, Molini Birgrini e l'area ex ospedale, allora questa è diventata la novella dello centro storico, perché io mi sono fatto, sono oramai 35 anni che ho fatto questo mestiere, quindi è anche sconveniente dirlo, ma si parlava di E78, si parlava di ex ospedale, no, dopo negli anni 2000 si iniziò a parlare di ex ospedale, dei Molini Birgrini, di piazza Burri, di nuovo anni 78, di sfondamento a nord della ferrovia, hai capito perché c'è oltre il 40% di gente che non va a votare, non ci crede più, ora domanda delle domande, il centro storico lo si rilancia portando i giovani a frequentare il centro storico, io lo dico da una vita, l'area ex ospedale dovrebbe essere adedita a cittadella scolastica, secondo me addirittura a sede universitaria, perché? Perché i giovani tornerebbero a frequentare il centro storico, pare, usiamo il condizionale, che potrebbe essere stata trovata una quadra che tutti sarebbero d'accordo sulla destinazione, Forza Italia che posizione ha? Perché su questo non c'è, non vi esprimete, perché? Perché anche voi non date il vostro contributo, no? Con un'idea magari, no? Ipotesi, sei favorevole alla creazione, Forza Italia sarebbe favorevole alla creazione, ma anche con un project financing, pubblico e privato, nel creare lì nell'area ex ospedale una sede universitaria, anche straniera, perché no? Perché se no prima o poi quell'edificio crolla, eh? Esatto, siamo sempre più vicini a quel rischio piuttosto che ad un'inaugurazione o riqualificazione. Come Forza Italia noi ci siamo fatti sentire nelle sedi opportune, non magari pubblicamente, non con atti, ma il nostro parere lo abbiamo detto. Sono dinamiche che portano lo scontento e la disillusione da parte dei cittadini. Io credo che avere delle potenzialità, parlavo prima anche, le potenzialità della città, l'ex ospedale è una di quelle. Non credo che ci siano tanti comuni nel centro Italia che possano vantare delle aree, dei locali, degli ambienti, delle strutture in quel modo. L'idea di una cittadella universitaria, perché no? Se ne è parlato tanto, si era parlato della possibilità, si era parlato anche di investitori, poi dopo non se n'è mai fatto niente. C'è stato sempre un rimbalzo, il problema è della regione che deve passare, poi mano a mano io credo che si arrivi a un punto in cui poi la compartecipazione di responsabilità si affina sempre di più, perché era vero nei primi anni, poi dopo mano a mano va scemando e quindi incrementa anche la responsabilità e il senso di dovere dell'amministrazione comunale nel cercare una soluzione. L'idea della cittadella universitaria, secondo il mio parere, potrebbe essere vantaggiosa per tanti aspetti. Innanzitutto porterebbe una riqualificazione del centro storico, porterebbe anche maggiore sicurezza al centro storico, perché più vivi un territorio, più lo qualifichi, lo rendi appetibile al turismo, lo rendi con un maggiore decoro urbano, perché ho visto la proposta dell'amministrazione comunale sul decoro fiori su tutti i vicoli, bene, però devi farli vivere quei vicoli, cioè devi riportare la gente al centro. Io sono residente in centro storico e a me dispiace vedere magari il venerdì sera camminando alle 10 di sera che non gira nessuno, che magari i bar devono stare aperti ma non hanno clienti, non bisogna andare troppo lontani, basta spostarsi 30 km, a Sansepolcro stessa che è ancora più vicino, comunque si accede il movimento. Io credo che l'idea di rendere itinerante… A Sansepolcro il movimento c'è il venerdì e il sabato. Dicevi prima che adesso stanno potenziando tanto la zona di via Morandi, quindi la zona ex zona industriale che ormai è diventato sempre il nuovo centro, rendere anche itinerante un discorso universitario, un discorso di istruzione e di formazione cercando di coinvolgere più poli della città. Questo potrebbe essere anche uno step successivo, perché permetterebbe anche i privati che hanno appartamenti, sfitti che devono sostenere i costi di poter poi avere delle entrate, quindi è un discorso che può essere ancora più ampio volendo. Sicuramente si parla sempre, si ritorna sempre allo stesso discorso, la politica del fare e non quella del dire. Senti, allora, riavvolgo il nastro e tu sei stato un grande difensore centrale. Credo che Luca Secondi facesse il terfino destro. Di spinta. Abbiamo fatto il triangolare… Mi pare che lui nasce terfino, sì. Allora, sto marcarpita difensore… Allora, tu hai lanciato l'idea, andiamo a parlare con la gente, no? Dopodiché Luca Secondi, loro comunque lo fanno di solito, da buon difensore, anche se di spinta, ha deciso di ascoltare. Ma quando vi trovate lì, quante persone ci sono? Allora, io dico la verità, i primi incontri che abbiamo fatto, col Tour Confidiamoci, abbiamo riscontrato difficoltà, perché non è mai facile, soprattutto quando non c'è un evento, non c'è una motivazione politica di elezioni che raduna gente. Quindi all'inizio, il primo incontro, mi ricordo, l'abbiamo fatto a Trestina, ci sono state due persone, però credo che sia stato un rompighiaccio e comunque sia una soddisfazione, perché è vero che erano due persone, però siamo stati lì, prendendo un caffè, ci hanno parlato, ci avevano detto che eravamo coraggiosi, perché per la prima volta un partito inteso come centrodestra aveva approvato questa cosa a Città di Castello, non dico a livello nazionale, ma a Città di Castello non l'avevano mai vista. E credo che, come tutte le cose, bisogna rompere il ghiaccio, bisogna andare oltre. Senti, guarda, allora tu, probabilmente non eri, sei del 90? 90, precisissimo. No, allora sì. Venne un noto cantante in una nota discoteca di Città di Castello per fare un concerto. Sì. E disse, me lo ricordo, lavoravo in radio ancora in quel periodo, e disse, siamo più noi di voi, che è successo? Certo, certo. E ora invece? Allora, adesso stiamo programmando il prossimo tour, la prossima tappa del tour, la faremo a fine mese, la faremo a Piosina, ancora non l'abbiamo pubblicizzato, ma è un'anteprima, quindi colgo l'occasione, dato che mi hai fornito l'assist, sono un difensore, ma quando sei un bel assist lo colgo, e faremo a Piosina, piano piano è andato increscendo, come tutte le cose, bisogna abbattere un attimo il timore iniziale, bisogna farsi conoscere, confidiamo che ci sia seguito, perché comunque sia, è un'intenzione la nostra di vivere un momento di incontro, di vivere un momento di confronto, senza pregiudizi, senza propaganda politica, noi li strutturiamo in modo molto informale, non prenotiamo sale, non arriviamo in pompa magna, ci ritroviamo su un bar, ci ritroviamo fuori, magari per strada, prendiamo un caffè, facciamo dei chiacchiere con la gente, quindi confido che ecco, anche a Piosina riusciamo ad avere un… Senti, siamo vicini alla conclusione. Senti, allora io a sto punto ti faccio due domande, no? E sono le domande che in questo momento, secondo me, hanno motivo di interesse. Premetto, ho deciso che non parlerò più di Socepo e Polisport, che io personalmente considero di eccellenze, e su questo, caro Tommaso, ne ho ricevute tante, a volte anche molto tanti, però ti dico, guarda, ve lo dico in tutta onestà, ci sono due questioni che a me stanno a cuore, la prima è che fine farà il Festival delle Nazioni, e su questo ti chiedo il parere di Forza Italia, la seconda, se secondo te è stata gestita bene la transizione su Muziguetti, perché stiamo parlando comunque di due eccellenze, anche lì poco se ne parla. Partiamo da Muziguetti, è una criticità, anche qui c'è il rimbalzo delle responsabilità, questa cosa va a finire. Qual è la posizione di Forza Italia su Muziguetti? Allora, su Muziguetti, tra l'altro se ne era parlato anche in sede di commissione consigliare di consiglio. Muziguetti credo che sia un service, una struttura fondamentale e un'eccellenza del nostro comune, anche perché svolge un servizio che credo sia prioritario, non solo perché è in ambito sociale, tema sociale, ma proprio perché offre un servizio che è indispensabile, per una categoria poi di persone che ha bisogno comunque sia di servizi, di supporto, di sostegno e assistenza. Io confido molto in un miglioramento, le difficoltà sono state tante, anche di passaggio poi tra il consiglio di amministrazione passato, quello che si sta creando, tra l'altro ho mandato i miei migliori auguri di lavoro al nuovo consiglio di amministrazione, anche lì è un rimbalzo, come dicevi tu, che è durato da tanto. Io credo che indipendentemente dalle possibilità e dai vincoli anche che l'amministrazione comunale ha in materia di partecipate del genere, credo che come Forza Italia, sempre in un'ottica costruttiva, il comune e l'amministrazione comunale debba riuscire a dare il massimo supporto e arrivare fino al limite di dove può per cercare di rendere questa eccellenza sempre operativa, di renderla sempre accogliente perché poi è riuscito fuori anche la difficoltà che avevano nel riempire le camere che avevano, nel continuare a fornire quel servizio, quindi credo che la posizione di Forza Italia è sicuramente in ambito costruttivo perché si parla di un'eccellenza del territorio e si parla di una struttura che riesce a fare del bene e riesce ad aiutare le famiglie, che di questi tempi non è scontato, quindi è sicuramente una posizione costruttiva e di supporto all'amministrazione comunale per tutte le iniziative, per tutte le decisioni che deve prendere in supporto a questa partecipazione. Allora su questo credi che il nuovo consiglio di amministrazione sia il massimo che si poteva ottenere in questo momento o anche lì hanno pesato le scelte politiche? Allora io non conosco personalmente i membri del consiglio di amministrazione, ho letto naturalmente i profili, abbiamo letto naturalmente i profili candidati, il loro curriculum, le loro esperienze, credo che siano poi tra tutti i curriculum, credo che erano tutte delle personalità che vuoi per percorsi formativi, vuoi per percorsi professionali, vuoi per impegni sociali, erano profili comunque sia centrati, poi dopo in tema di scelte, sinceramente quelle che sono state fatte che hanno portato a questo consiglio di amministrazione. Io mi auguro, non sono uno che ha pregiudizi o comunque sia, diciamo, si fascia la testa prima di romperla, quindi io credo che sia una posizione di speranza. Conterranno i fatti. Esatto, ci stavo a dire. Allora, c'è un rischio Festival delle Nazioni secondo te? È un'altra eccellenza, come dicevi. Il rischio, anche lì se ne è parlato in Assise, il rischio è stato paventato, ma io credo che poi il comune, l'amministrazione comunale poi tutti insieme riuscirà a trovare una quadra, perché comunque sia è un'eccellenza, una delle poche rimaste a livello di poi associazionismo è la più grande. C'è un confronto sul Festival delle Nazioni tra maggioranza e opposizione per cercare di trovare delle soluzioni condivise? Diciamo, in consiglio è stato più un primo approccio, è stato più informativo che di confronto. Io credo che sicuramente si arriverà a un momento di confronto che credo sarà fondamentale. Se non arriverà dalla giunta comunale, arriverà credo dall'opposizione con dei dispositivi per parlarne in modo più approfondito, perché il Festival delle Nazioni è un viatico importante a livello non solo di immagine del comune, ma anche a livello di turismo, anche a livello di qualità dei servizi, dell'intrattenimento che offre, delle personalità che ospita. Quindi io credo che sia fondamentale salvaguardare innanzitutto le eccellenze che abbiamo in casa e poi cercare di trovarne anche delle nuove, soluzioni per migliorare, ma sicuramente bisogna salvaguardare quello che già di buono abbiamo. Il Festival delle Nazioni è uno di questi e credo che sicuramente ci sarà un momento di confronto e di poi costruzione di prospettiva per un'eccellenza che deve rimanere assolutamente tale. L'importante è che sia un confronto costruttivo. Abbiamo passato quest'ora insieme, avevi tanto timore, perché alla fine se non ti fermavo potevi continuare un'altra ora. Ora ti lascio ai tuoi impegni, ora farai il wedding planner. Ora sì, ottimizziamo facendo planning casalingo. Bene, grazie a te Michele. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. In primo piano torno a lunedì prossimo. Buon proseguimento di serata.